Segnale di stop non visibile o comunque non adeguatamente segnalato, l'ultimo incidente in ordine cronologico nel famigerato incrocio di via Montegrappa, più volte balzato alle cronache recentemente, ha fatto scattare la protesta nel nuovo quartiere killer, con tanto di virgolette. Residenti, automobilisti, operatori commerciali alzano la voce, fanno notare la segnaletica malposta all'incrocio. Finora si sono verificati sempre sinistri tra auto, dobbiamo attivarci preventivamente prima che ci scappi il morto, perché transitano in questa zona anche diverse moto o bici incalzano la quartiere. Il segnale di stop è effettivamente collocato 30 metri prima dell'incrocio, peraltro in un punto che non balza all'occhio. In più la segnaletica verticale risulta praticamente illegibile. Non proprio il massimo per la sicurezza stradale e la visibilità. Per questo sono scattati ieri i primi rilievi da parte della polizia locale e di un poliziotto libero da servizio, perché si provveda quanto prima a ripristinare le condizioni di sicurezza e normalità. Nell'ultimo periodo sono stati tre gli incidenti rilevati, finiti agli onori delle cronache, tutti non gravi fortunatamente. Più ci sono quelli che sono passati in sordina, che non hanno avuto bisogno dei rilievi delle forze dell'ordine.